Va bene, sono arrivati Noemi Santucci e Lorenzo Cenacchi, sono qui, meravigliosi, diciamo che abbiamo accelerato le pratiche, no siete arrivati un istante fa col camper, però voi siete, ne hanno portato solo uno, non capisco perché, no ma sto scherzando, siete, li potete cercare su tutti i social come due zaini in viaggio, viaggiatori instancabili, che parlano pure, hanno anche la voce, adesso, pieni di passione. Appena viene fuori. Appena viene fuori, no ma tesori, vi abbiamo fatto fare un viaggio molto lungo? No, noi viaggi lunghi siamo abituati a farli, quindi per noi non c'è problema a viaggiare. Da dove arrivate? Da Prato. Da Prato a Roma rispetto ai chilometri che fate di solito, uno scherzo, ma uno scherzo. Allora, ora vi parleremo anche del blog due zaini in viaggio, perché? Perché avete unito all'amore per il viaggio generosamente l'idea di un'utilità per chi magari non viaggia o vorrebbe viaggiare. A chi è venuta l'idea? A me. A me. Bella lei. Sì, perché già grazie al mio lavoro che facevo grafica pubblicitaria, ero già comunque appassionata di fotografia, quando viaggiavamo già tanto, anche prima, durante le vacanze estive, quelle invernali, e ero sempre piena di foto. E un giorno ho detto, ma provo, apro la pagina social e inizio a buttare qualche foto, inizio a raccontare qualcosa. Poi gli amici ci chiedevano, ma voi che siete stati lì, cosa ci consigliate? Insomma, a furia di chiederci consigli ho detto, ma sai che li do a tutta Italia i nostri consigli. Ma brava, ma bravissima. Allora, voi amate viaggiare, guardate quanto sono belli. Allora, 3 mila e 32 metri? Sì. Voi siete subito partiti col camper o avete iniziato diversamente il vostro modo di viaggiare? Prima zaino in spalla. Zaino in spalla. Poi dallo zaino in spalla la moto, proprio fra la moto il camper, poi dopo il camper di nuovo la moto, poi il camper, poi il zaino in spalla. Si viaggia un po'... e ultimamente con il camper per il viaggio che abbiamo i cani. Io qui volevo arrivare, volevo proprio... l'ho buttata lì, no? Perché voi siete anche, come dire, accompagnati nei vostri viaggi... Del nostro canino. Dal vostro canino, che carino! Tipico toscano, il canino, che non è un dente, è il cane, è la persona, la persona, è il soggetto migliore che si possa sperare di avere, no? Accanto, in una coppia soprattutto, è un cagnolino che vi tiene. Quindi ci voleva il camper. Ci voleva, sì, ecco. Perché non è proprio un cagnolino, è un tonno, è grosso come non so che. Lì eravamo in Turchia. Oh, oh, che meraviglia questa foto, è stupenda. Allora, lì eravamo in Turchia, ma bellissimo che lui si è messo nella stessa posa. Non è facile metterlo nelle posi comunque. No, lo vedo, ma è un canone, non è un canino però. Sì, è un bel canino. Perché tanti ci chiedono, com'è viaggiare con Amstaff? È impegnativo? In realtà sì, però si può fare. Però si può fare. Allora, voi conoscete nuove culture, incontrate situazioni, arriveremo anche all'Albania dove c'è una storia meravigliosa, incontrate, prendete e al tempo stesso cedete a tutti noi conoscenza. Sì, conoscere racconti, sì, sì. Più che altro amiamo proprio scoprire come vivono le persone del posto, quello che mangiano, cosa hanno da raccontare anche, ci piace proprio. Spesso come in Turchia è successo che... Cosa è successo in Turchia? Anche a loro piacevano più che altro i nostri racconti, perché loro non potendo viaggiare tanto, perché passaporto turco magari è più difficile avere i visti per uscire e tutto, quindi ci invitavano a cena a casa a mangiare, nei parchi quando facevano i barbecue, tutti li a mangiare intorno al fuoco con loro, che ci spiegavano, che volevano sapere da noi le cose. Lorenzo e Noemi, voi date, no non date, voi siete la dimostrazione di un mondo capace di dialogare, anche se parliamo un'altra lingua e mangiamo cose diverse, no? Sì, anche perché in Turchia non è che si parlasse inglese o... ci si faceva capire con un google traduttore e con un po' di inglese, ma... E con un po' di gesti. Noi ci facciamo capire dalle parole. Sì, non c'è problema. Tendo a dire questo. Sono meravigliosi, insomma, sono insieme dal 1999, correggetemi sempre, due bambini praticamente. Siamo conosciuti ancora due anni prima, a dire la verità. Ah, due anni prima? Sì. Sì, stiamo insieme dal 99. Però stiamo insieme dal 99. E chi ha fatto la corte all'altro? Sono sempre in piccione. Non è vero. No, adesso guardi che siamo... Guardalo là, guardate cosa siete. Mi ronzava sempre intorno in campeggio. Mi ronzava intorno in campeggio, sì, ho capito, però mica lei non l'ha vista. Poi il primo passo l'ho fatto io, però, insomma. Ah, allora, la dica tutta, non è il primo passo l'ha fatto lei. Il primo passo l'ho fatto io. Lei ronzava, lei camminava semplicemente. Infatti. Innamorati cotti. Qui siamo. All'Hawaii. All'Hawaii. Viaggio di nozze è quello. Il viaggio di nozze, certo, ovviamente. Ma io voglio sapere di Cuba. Eh, Cuba è stato il nostro primo viaggio e in più... E più c'è successo il primo imprevisto nel viaggio che si era lì e all'imprevisto, quando sono avuto i soldi, mi sono accorto che non facevano le carte di credito. Perché a quei tempi comunque vada... Era un circuito che... Il circuito non andava bene, anche se la banca mi aveva detto che andava bene, eh, e non si poteva prelevare. E quindi è rimasto con 50 dollari che era praticamente i soldi per il visto per uscire fuori da... Sì, per la tassa da pagare. Per la tassa da pagare, per uscire fuori da Cuba. Ma cosa avete fatto? Siamo stati in una casa particolare con una signora che, se non mi sbaglio, si chiamava Maria e ci ha praticamente non fatto pagare le notti da lei e ci ha fatto mangiare, dormire. Alla fine siamo stati senza soldi per quattro giorni e tre notti siamo stati a dormire da lei. E quando siamo tornati siamo sentiti tramite lettere, cose... A me piace raccontare questo guardandovi e conoscendovi sul vostro blog. Voi raccontate e diffondete umanità, oltre alla bellezza del viaggio, di luoghi meravigliosi. Voi diffondete umanità che in un tempo come questo, ce n'è sempre stato bisogno, ma in un tempo come questo, dove se è possibile uno armato contro l'altro, è importante. Fate... Noi si vede anche tanto, come si dice... Tanta umanità anche fuori dall'Italia si vede tanta... Sì, la sentiamo a pelle, la vediamo. Noi si aiutano, ma anche tante persone ci hanno aiutato a noi, cioè... Sì, sì. C'è chi è l'Albania, in Albania poi non mi aspettavo. Albania, attenzione. Ci hanno aiutato tantissimo, qualunque problema. Quando mi fermavo con il camper mi fermavo, io sempre in maniera educata, posso parcheggiare qui, guardavo la targa, Italia, acqua corrente, la mattina mi svegliavo, borse col pomodori, col cocomodo, poi cetrioli, ci portavano a mangiare. Che meraviglia questa cosa che ci dice, bellissima. Sia in Albania che in Turchia è stata proprio un'esperienza bellissima. In Albania, allora, in Turchia abbiamo detto, abbiamo visto anche la foto, anche col cagnolino, io continuo a non chiamarlo canino, quello è un tonno, ripeto, è un cane bello, grande così, comunque adorabile, amorevole. Com'è che si chiama? Sonni. Sonni. Albania. Signori, guardate con noi queste immagini, guardatele bene, con la massima attenzione, guardate queste immagini. Otto luoghi pazzeschi da vedere in Albania. Il Parco Nazionale di Tette, con il suo bellissimo occhio blu, il luogo ideale per gli amanti del trekking. L'occhio di Scega, nel Parco Nazionale del Lago di Scutari, davvero suggestivo. Tirana, la capitale, da non perdere il Bunkart 2 per conoscere la storia dell'Albania e del suo popolo. Porto Palermo, una piccola penisola con mare cristallino, dominata da un castello. L'occhio blu di Saranda, una profonda sorgente d'acqua circondata da una ricca vegetazione. Argiro Castro, conosciuta anche come la città di Pietra, è dominata da un castello e da una storia di più di 2500 anni. Le terme naturali di Benje, un luogo unico dove rigenerassi in B6 sorgenti sulfure. Xamil, mare cristallino, relax e divertimento. E tu, quale di queste vorresti assolutamente vedere? Allora, avete visto questo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Che cosa è diventato questo vostro libro? È diventato virale. È diventato che molti italiani sono andati in vacanza in Albania. È diventato che il ministro del turismo in Albania ha parlato di noi. E questo volevo sapere, arrivare a far parlare... Ci hanno fatto anche un'intervista, una televisione albanese. Per ringraziarvi di essere stati in veicolo. Sì, sì, per aver parlato bene dell'Albania, per aver mostrato le loro bellezze, ci sono stati molto riconoscenti. Il tutto in 1, 2, 3, in 8 click. Sì, sì. Se posso dire così. E beh, fa piacere sapere di essere. Molto, molto, è gratificante, sì. Cioè, più che altro perché io comunque mi impegno sia a fare video, sia comunque anche a cercare i posti belli. E mi impegno anche a raccontarli, a mostrarli come sono, senza infiocchettarli troppo. Senza melassa. Ecco. E quando poi, insomma, piacciono e vengo gratificata, insomma, è molto bello. Quanto siete belli e simpatici voi due, mamma mia. Le persone ideali con le quali fare un viaggio, specie se avete un camper, ora vi raccontiamo il finale. È una storia meravigliosa. Allora, Noemi e l'Indonesia. Siete rimasti in Indonesia un mese. Un mese. No, si è fatto tre mesi quasi tra Indonesia e Malesia. Però in Indonesia un mese basta. Per festeggiare i suoi 40 anni. Sì. Siamo andati. Beh, cioè, insomma. 40 anni? 39. Ma per contosia, 20, più 20 di esperienza. Abbiamo visto un'immagine della Lapponia, di quelle che ti fanno rimanere, qui la grafica pubblicitaria non c'entra niente, non è una costruzione. Quella è un'aurora boreale. Quella è la natura. È la natura che fa paura. Quella è l'aurora boreale. E rimani bloccato. È meraviglioso. Cioè, hai un'emozione dentro che rimane a bocca aperta e stai senza parole. Stai senza parole. Guardate che a questi due sposi è costato lasciare il proprio lavoro, ma hanno fatto una cosa meravigliosa. Hanno seguito il proprio sogno. Sì. Voi oggi siete persone che possono dire io faccio quello che volevo fare. Non è poco. Sì. Non è poco. E lo sanno anche le sette famiglie camperiste, io quanto vorrei esserci, vorrei essere una goccinellina coperta, perché vanno in Lapponia con il cappellino, mi metterei il cappellino, dove per la prima volta non sarete soli, cioè sarete sette camper che vanno, un, due, tre... Sette camper e ventiquattro persone, più che altro. Sì. Chi fa il capogruppo? Noi. Noi. Meraviglia. Bambini anche in questi gruppi? Sì. Sanno dei bambini, una di cinque anni e poi... E Sonny è a posto. No, Sonny si lascia, penso di lasciarlo a casa. Sì, in questo caso pensiamo di lasciarlo a casa, perché dobbiamo stare dietro già al gruppo, cioè... Comunque quello è un lavoro per noi. È un lavoro. E poi un canto impegnativo. È un canto impegnativo, portarlo anche a quelle temperature. No, temperature... Troverete quanti gradi? Eh, meno 20, meno 30 gradi. Però, a meno 20, meno 30, tutto sarà congelato, forché i due zaini in viaggio, forché la simpatia di Noemi, forché... Speriamo anche i camper, più che altro. La simpatia, ovviamente, di Lorenzo. I camper andranno perfettamente. Se vedete sette camper che vanno in giro così... Da dove partite? Ci si ritirò... Eh... Partono... Il gruppo parte da varie parti dell'Italia. Ah, e li ritrovate in un punto. E ci ritroviamo a Malmo, in Svezia. A Malmo. In questa meravigliosa orchestra, sono in tre, ma ne fanno per sei, anzi sette. Andiamo. In questa meravigliosa orchestra, sono in tre, ma ne fanno per sei.